Eccellenza sulla questione ospitalità migranti, quali sono le priorità, come ci si sta organizzando? Innanzitutto garantire alle persone che arrivano, che purtroppo non arrivano in serenità, d'animo, di rendere loro tutto molto semplice. Dal fatto di registrarsi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura, al fatto di essere messi in regola dal punto di vista sanitario per consentire loro di poter beneficiare un domani delle cure mediche, perché altrimenti sarebbero costretti una volta a presentarsi in un ospedale a non poter essere neanche accolti, quindi ci sono dei codici particolari che devono essere garantiti e quindi anche questa parte sanitaria, verificare il loro stato vaccinale, capire tutto quello che è il loro progresso e quindi questa parte sanitaria, questa parte più di organi di polizia, renderla molto più agevole. Nel contempo, proprio perché a queste due fasi segue anche la fase di eventuale allocamento, qualora non siano state queste persone ospitate presso parenti, amici o altri conoscenti che già le hanno chiamate magari per farli raggiungere qua sul territorio nazionale, ecco in questa seconda fase allora dobbiamo intervenire noi. Innanzitutto i comuni, quindi i vari comuni per poter verificare se alloggi disponibili nel loro territorio in forma gratuita. Qualora questa disponibilità non ci fosse, allora in quel caso interveniamo con il sistema del centro di accoglienza e quindi la prefettura si farà carico di poterli sistemare in dei centri. Qui in provincia di Chieti posso dire che abbiamo reperito in questo circuito 100 posti circa. In questo momento in provincia abbiamo due hub vaccinali aperti, contiamo di aprire anche probabilmente un terzo al vasso, ma in questo momento stanno funzionando quelli di Chieti e di Lanciano come hub presso i quali dirigere le persone. Ad oggi, a questa mattina, perché ogni sera aggiorniamo il numerico, sono circa 150 persone che sono presenti sul territorio provinciale, divise tra prevalentemente qui Chieti in particolare ne ha ricevute una settantina, il resto tra Vasto e Lanciano che sono i due commissariati. Questi numeri però sono destinati a aumentare perché già questa mattina hanno chiesto a noi di incominciare ad alloggiare presso i centri di accoglienza una famiglia di otto unità, di cui cinque minori. Quindi stiamo provvedendo a sistemarli e tra oggi e domani mattina saranno sistemati.